buongiorno a tutti amici di rubrica rossonera questo è il nostro primissimo video sul canale youtube rubrica rossonera qui verranno trattate tutte le news tutte le indiscrezioni legate al mondo milan tutto ciò che succede a casa milan e tutto ciò che succede a milanello le nostre inviati che ci manderanno tutte le informazioni tutte le news noi ve le riporteremo qui sul nostro canale perché abbiamo deciso di fare il canale youtube tanti vi chiederete perché vogliamo essere diretti vogliamo essere maggiormente vicini a voi tifosi il primo articolo che noi abbiamo deciso di portarvi è l'articolo legato alla decisione che sta prendendo il fondo illiot infatti secondo quanto ci risulta la nostra redazione il fondo illiot avrebbe dato l'ok per l'acquisto di un uomo d'esperienza perché questo perché molto spesso la nostra squadra ha risentito di cali tensione durante la partita durante i match soprattutto nei match in cui subentra la difficoltà serve un leader questo è stato riconosciuto dal fondo illiot i nomi sono tanti può essere zlatan ivraimovic può essere mario manzukic può essere rakitic il ruolo non è così importante secondo quanto trapela alla nostra redazione purché l'acquisto sia di un vero leader un leader che potrebbe trascinare lo spogliatoio in questo momento della stagione molto difficile della testa c'ho solo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore guardo il milan alla tv seguo le partite alla radio ma mi esatto molto di più quando guardo il mondo e non i app slettino senza